Il tavolo tecnico istituito per pianificare il passaggio dell'ospedale Sant'Antonio all'azienda ospedaliera di Padova ha concluso la prima fase di lavori individuando e approvando un piano attuattivo che prevede che il Sant'Antonio cambi gestione dal 1 gennaio 2020. Per quanto di interesse pubblico viene garantita in toto la prosecuzione delle attività in essere, secondo le precise volontà della Regione del Veneto, quindi per i cittadini utenti non vi sarà alcun cambiamento. La collettività potrà continuare a fare affidamento sull'ospedale Sant'Antonio come in precedenza e senza eccezioni. Quanto al personale che presta la sua attività al Sant'Antonio, la salvaguardia dell'intera attività aziendale comporta per gli operatori continuità del rapporto di lavoro e garanzia dei trattamenti individuali nel rispetto delle leggi e delle disposizioni contrattuali. Nessuna modifica subiranno neppure le procedure in essere per il conferimento degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di funzione per il personale del comparto. Tutto questo ha conferma che il trasferimento dell'ospedale Sant'Antonio all'azienda ospedaliera non comprometterà la configurazione della struttura nell'evoluzione naturale prevista dalla Regione del Veneto. In sintesi, il Sant'Antonio cambia etichetta ma non muta la sua sostanza.